Salve a tutti e bentornati qui su Doctor Cinema. Allora, oggi vi voglio parlare di un film che ho avuto modo di recuperare da poco, un film che è stato pubblicato sulla piattaforma di streaming Netflix ed è un film che mi incuriosiva, mi incuriosiva parecchio, fin da quando ho visto per la prima volta il trailer e poi anche andando ad approfondire una storia, quella che viene raccontata appunto in questo film, una storia che io non conoscevo, devo essere sincero, quindi è qualcosa che ho appunto approfondito soltanto dopo aver conosciuto il film, aver capito che sarebbe stato pubblicato questo film e anche la storia stessa mi ha portato in qualche modo anche ad avvicinarmi con maggiore curiosità a questa pellicola di Sidney Sibilia. Mi sto riferendo chiaramente, come potete vedere dal titolo, all'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Allora, è un film che racconta una storia realmente accaduta, anche se in realtà con alcuni aspetti romanzati, racconta la storia di Giorgio Rosa, un ingegnere italiano che alla fine degli anni Sessanta decise di costruire a largo di Rimini, nelle acque del mare a largo di Rimini, decise di costruire una piattaforma, una gigantesca piattaforma di circa 400 metri quadrati ancorata chiaramente al mare in acque internazionali perché voleva appunto creare una zona indipendente, una zona nella quale non rispondessero, nelle quali non si potesse rispondere alle leggi italiane, tanto che infatti poi successivamente l'intento di Giorgio Rosa sarebbe stato quello di dichiarare uno Stato indipendente, appunto l'Isola delle Rose con una lingua tutta sua, in realtà l'esperanto, e con una moneta specifica dello Stato, tanto che infatti poi si determinò anche la formazione di un governo, di un presidente, di ministri, indipendenti chiaramente dallo Stato italiano. Un progetto utopistico, in altre parole, un progetto che Giorgio Rosa volle portare avanti proprio per, in qualche modo, dimostrare la possibilità che un cittadino, un libero cittadino, potesse realizzare qualcosa senza, appunto, dover dare, in qualche modo, contraragione allo Stato italiano. È un film, come ho detto, tratto da una storia vera, anche se, ripeto, con diversi aspetti romanzati riguardanti alcuni, soprattutto anche alcuni personaggi, e ne parleremo. Chiaramente io non voglio andare oltre in quella che è la descrizione della trama perché rischierei di fare spoiler. E poi, tutto sommato, io mi sono approcciato a questo film soltanto con una infarinatura di quella che, appunto, è la storia generale dell'Isola delle Rose, che è più o meno quella che vi ho detto. Quindi, Giorgio Rosa poi dovette, ecco, se vogliamo completare il discorso, dovette comunque confrontarsi con lo Stato italiano, dovette confrontarsi con il Presidente del Consiglio, con il Ministro dell'Interno. Questo creò, chiaramente, una disputa. Non vi dico come andrà a finire la storia, come andrà a finire la storia, anche se poi fondamentalmente, proprio perché è un evento realmente accaduto, basta una rapida ricerca su Interte. Però vi consiglio di non farlo per non spoilerarvi, appunto, il film. Il film di Sibilia è un film che, lo si vede fin dall'inizio, è un film con lo stile tipico di questo regista, che, appunto, ricordo, è il regista della trilogia di Smetto Quando Voglio, che io apprezzo particolarmente, anche se poi, in realtà, il film che io amo follemente di quella trilogia è il primo. migliore della trilogia. Poi, diciamo che la storia si sfilaccia strada facendo. Il primo film rimane, secondo me, un gioiello del cinema italiano degli ultimi tempi, però Sidney Sibilia dimostra, anche, con questa sua nuova opera, di essere un bravo regista, di essere in grado di maneggiare con cura quella che è la macchina da presa, con la possibilità, anche, di gestire delle storie particolari. Un po' come particolare erano anche le storie che venivano raccontate nella trilogia di Smetto Quando Voglio. In questo caso, chiaramente, si appoggia ad un evento realmente accaduto, e lo fa in maniera, secondo me, efficace, con una regia efficace, con un ritmo che è quello, appunto, al quale ci ha abituati anche nei suoi precedenti film, un ritmo abbastanza, come dire, sostenuto dall'inizio alla fine, una storia che procede in maniera abbastanza rapida, con alcuni snodi narrativi ben precisi, e poi, chiaramente, in questo film, perlomeno, si appoggia ad un cast importante, tra l'altro, con degli attori che io non sapevo fossero presenti, perché? Perché abbiamo, chiaramente, Elio Germano, protagonista principale, che interpreta, appunto, l'ingegnere Giorgio Rosa, poi abbiamo Matilda De Angelis, che interpreta Gabriella, che è l'ex fidanzata di Giorgio Rosa, con il quale, però, rimane in rapporti, anche perché Giorgio continua ad essere attratto, innamorato di lei, e poi, in realtà, abbiamo, oltre a tutta un'altra serie di attori meno famosi, mettiamola così, però, secondo me, straordinariamente in parte, abbiamo anche Luca Zingaretti, nei panni del Presidente del Consiglio, e Fabrizio Bentivoglio, nei panni del Ministro dell'Interno, quindi due attori che io, in realtà, non sapevo fossero presenti in questa pellicola, sono presenti, quindi un ulteriore tocco di importanza, possiamo dire, un tocco ulteriore di qualità al film. Il film mi è piaciuto tantissimo, devo essere sincero, leggendo qualche recensione adesso, sul web, non l'ho fatto prima, proprio per evitare di spoilerarmi, ma anche per evitare di essere influenzato in quella che era la visione del film, leggendo le recensioni sul web, diciamo che i pareri sono per lo più positivi, però non in maniera così unanime, non in maniera così estesa, alcune critiche le ho lette, alcune negatività su questo film le ho lette, diciamo che è il modo di fare cinema di Sidney Sibilia che probabilmente, in qualche modo, porta a non avere una concordanza al 100% da parte di pubblico e da parte di critica, però secondo me il film funziona, il film funziona benissimo, funziona benissimo dall'inizio alla fine, tra l'altro, e non ho trovato delle criticità tali da non far, come dire, da non permettermi di essere entusiasta di questo film. La storia procede bene, come dicevo, è strutturata bene a livello di sceneggiatura, ripeto, ci sono degli aspetti romanzati, non ve li voglio rivelare, perché credo che indirettamente rischerei di fare anche spoiler, però se poi voi andate a documentarvi su quella che è la reale storia dell'Isola delle Rose, troverete delle differenze, però, come lo dico sempre, questo non credo neanche che possa, questo film non credo che possa rientrare tra i film biografici in senso stretto, però sì, in effetti è comunque una sorta di biopic, quindi è un film biografico sui generis, che si prende le sue libertà, e quando comunque, da un punto di vista della sceneggiatura, il film funziona, il fatto che poi ci siano delle libertà creative, il fatto che ci siano degli aspetti romanzati, poco importa, l'importante è che tutto vada bene, che tutto riesca a procedere per il meglio, e secondo me, in questo film questo succede, Sidney Sibili è stato in grado di gestire al meglio la storia dell'Isola delle Rose, ripeto, nonostante si sia presa alcune libertà. Il film funziona anche, grazie ad una bella colonna sonora, tra l'altro, essendo ambientato negli anni 60, alla fine degli anni 60, tra l'altro, in un periodo che era, che è importante, perché siamo negli anni che portarono al 68, fondamentalmente, quindi anche questo fa capire l'atmosfera generale nel quale si venne a creare l'Isola delle Rose, era un periodo particolarmente florido, da un punto di vista degli intenti di ribellione verso lo Stato, in questo caso, quindi lo Stato italiano, e per quanto riguarda la colonna sonora abbiamo tanti brani, tante musiche, tante canzoni di quegli anni e questo contribuisce chiaramente a costruire, appunto a realizzare un'atmosfera molto gioiosa, molto allegra durante tutto il film. Il film che mi è piaciuto anche per quanto riguarda la fotografia, per quanto riguarda anche il montaggio, non ci sono, secondo me, delle sbavature da questo punto di vista e poi probabilmente è chiaro che il cast va a rappresentare anche un valore aggiunto, un plus in più, un plus importante per quanto riguarda la pellicola. È ovvio che tengo Elio Germano alla fine perché voglio fare un discorso ben preciso, però Matilda De Angelis mi è piaciuta, ma secondo me Matilda De Angelis rappresenta in questo momento tra le attrici diciamo della sua generazione, quindi tra le giovani attrici migliori in circolazione, ha una carriera luminosa davanti a sé, se riesce chiaramente a mantenersi a questi livelli, ma ci sono tutti i presupposti affinché lo faccia. Al loro fianco, ripeto, c'è un cast ben strutturato, io non ricordo i nomi, non li conoscevo, però tutti i vari personaggi secondari sono importanti e sono importanti poi soprattutto perché vanno a in qualche modo supportare quello che è il personaggio, la prova attoriale di Elio Germano. Come dicevo prima, abbiamo anche la presenza di Luca Zingaretti e di Fabrizio Bentivoglio, due grandissimi attori che non hanno sicuramente bisogno di presentazioni e che vanno, ripeto, ad impreziosire il cast e il film stesso. E poi, appunto, c'è Elio Germano. Elio Germano, anche lui, ormai, credo che non abbia più bisogno di ricevere elogi perché ha dimostrato ampiamente quella che è la sua bravura, quella che è la sua preparazione e anche la sua capacità di calarsi in personaggi diversi anche in, come dire, in un intervallo temporale che è ristretto. Perché? Perché il 2020, per quanto sia stata un'annata disgraziata da un punto di vista cinematografico e non, chiaramente, ma per quanto riguarda il cinema italiano, ci ha offerto la possibilità di goderci tre grandissime prove di Elio Germano perché lo abbiamo avuto nel film Volevo Nascondermi in cui interpreta il pittore Ligabue, gigantesco, stratosferico, lo abbiamo avuto in Favolaccia dei Fratelli d'Innocenzo, altra grandissima prova e lo abbiamo avuto anche in questo film L'Incredibile Storia delle Rose. Sono tre personaggi tra l'altro diversissimi gli uni dagli altri, diversissima ai poli opposti del pianeta probabilmente dell'universo. Sono tre personaggi diversi ma in tutti e tre i casi Elio Germano è stato favoloso, è stato grandissimo nel riuscire a costruire delle persone, dei personaggi in realtà molto reali nelle loro dinamiche. Chiaramente tra l'altro stiamo parlando di due film biografici perché Volevo Nascondermi e L'Incredibile Storia delle Rose portano a raccontare la vita, una parte della vita di due personaggi realmente esistiti. Il pittore Ligabue appunto nel film Volevo Nascondermi è l'ingegnere Giorgio Rosa mentre Favolacce chiaramente è un film di pura invenzione, di pura finzione. però Elio Germano in questo 2020 ha dimostrato qualora ce ne fosse ancora bisogno di essere realmente un grandissimo attore tra i migliori della sua generazione forse anche il migliore della sua generazione e come dire riuscirà secondo me ancora di più a continuare su questa strada negli anni a venire e noi siamo fortunati ad avere un attore come lui quindi probabilmente rappresenta anche in questo film la punta di diamante. il suo Giorgio Rosa è un personaggio eccentrico un personaggio divertente per molti aspetti ma anche a tratti inquietante per quelle che sono le sue volontà per quello che sono i suoi i suoi intenti ma in realtà non è altro che l'incarnazione di un sogno l'incarnazione per meglio dire della volontà di portare avanti un sogno un'utopia quella di costruire uno stato indipendente scontrandosi poi con la dura realtà però cercando di mantenere salda la propria il proprio intento fino alla fine fino a quando sarà possibile a suo fianco appunto abbiamo Matilda De Angelis che è la sua ex fidanzata che invece in parte rappresenta quella che è la parte più realistica la parte meno sognatrice della vita stessa di Giorgio Rosa erano ex appunto ex fidanzati ripeto da questo punto di vista vi dico che è proprio anche in questo caso che c'è una componente fortemente romanzata del film non vi rivelo altro però ripeto sono due grandi attori secondo me sono due attori Matilda De Angelis è più giovane di Elio Germano e dobbiamo essere felici di averli dobbiamo essere contenti anche di avere Sidney Sibili è un regista che secondo me anche in questo caso ha dimostrato ulteriormente quello che è il suo valore lo aveva già dimostrato con la trilogia si metto quando voglio qui la conferma tra l'altro voglio anche ricordare come il tutto sia stato anche reso possibile dalla produzione di Groenlandia che è un gruppo di una casa di produzione italiana alla quale tra l'altro a capo della quale abbiamo Matteo Rovere quindi un altro nome che è ritornato spesso negli ultimi anni Matteo Rovere è un regista tra le altre cose oltre che produttore regista di Veloce come il vento per esempio o Il primo re o anche la serie Romulus che è uscita da poco quindi anche lui è un giovane tra l'altro un giovane artista un giovane autore che sta costruendo qualcosa di importante nel panorama italiano cinematografico e questo film a mio modo di vedere va a confermare questa tendenza va a confermare la tendenza di quanto comunque siamo in grado di dar vita a degli ottimi prodotti degli ottimi film quando vogliamo metterci di impegno ci riusciamo e quando tra l'altro abbiamo anche la possibilità di vederli distribuiti in maniera importante in questo caso su Netflix credo che dobbiamo essere fieri e orgogliosi di appunto di fornire agli spettatori questi prodotti tra l'altro l'incredibile Storia delle Rose ha proprio un respiro anche come voglio dire internazionale nel senso che è un film che io ho come la sensazione che avremo la possibilità di portarlo all'estero senza grandissime ambizioni probabilmente però è un film esportabile ecco da questo punto di vista e tra l'altro questo è facilmente intuibile proprio grazie anche alla partecipazione di Matteo Rovere i cui film sono spesso da questo punto di vista orientati verso l'estero quindi non come dire staremo a vedere nei prossimi mesi cosa accadrà però ho la sensazione che l'incredibile Storia delle Rose potrà anche dire la sua al di fuori dell'Italia e dobbiamo essere felici di questo chiaramente quindi questo era quello che pensavo quindi un film che mi ha entusiasmato un film che mi è piaciuto e che mi rimarrà in memoria per tanto tempo mi è davvero mi ha confermato tutte quelle che erano le aspettative sulla pellicola sono contento di averlo recuperato sono contento di averlo visto anche se con qualche giorno di ritardo rispetto alla sua uscita su Netflix io vi consiglio di recuperarlo più presto fatemi sapere chiaramente cosa ne pensate se lo avete già visto quali sono le vostre opinioni anche se avete trovato delle criticità se il film non vi è piaciuto perché ripeto ci sono state delle recensioni negative che ho visto sul web quindi fatemi sapere anche se non vi è piaciuto e perché non vi è piaciuto chiaramente questo era quello che pensavo io vi ringrazio sempre per l'attenzione e per essere arrivati qui a fine video iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e come sempre vi do l'appuntamento ai prossimi video alle prossime recensioni oppure come sempre ci becchiamo nella mia pagina Facebook Dr. Cinema vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto grazie